E' troppo a chiedere un turno che sia normale e noioso. Sembra sia stata punta. Dall'altra parte della città ci sono due cadaveri e pare che avessero una specie di segno sul collo. Sono morte tre persone a pochi minuti l'uno dall'altro a chilometri di distanza. Com'è possibile? La sospettata si dirige verso ovest, attraverso Liberty. Ciao, Thomas. Che cosa hai detto? Quindi succederà qui? Nel nono anniversario degli omicidi di Market Street, la cruenta morte dell'ancora non identificata sospettata afroamericana. Detective Lockhart, sì, ti ascolto. Che significa? Sta succedendo di nuovo. Venite tutti a vedere. Polizia di Philadelphia ha visto questa tomba. Felice di rivederti. È stata fatta a pezzi da un treno e nove anni dopo si ripresenta. Ha la priorità assoluta per tutte le forze dell'ordine di Philadelphia. Devi smetterla di darmi la caccia. Faccio tutto questo per un motivo. Noi stiamo andando nel futuro. Invece lei... Ritorna nel passato. Non immagini minimamente cosa accadrà. Se ora mi togli la vita, il mondo che tu conosci finirà. Ritorna nel passato. Ritorna nel passato. Grazie a tutti